Credo che questo workshop sia un'opportunità molto interessante per diversi motivi. Prima perché affronta un tema come quello dell'igiene orale, che è un rituale quotidiano e che si differenzia in centinaia di modalità, di atteggiamenti psicologici e comportamenti estremamente differenziati. Secondo perché gli studenti si possono confrontare con un'icona e con un pezzo storico del design italiano come lo spazzolino di Taumarin che è estremamente interessante proprio come prodotto di design. E terzo perché incontrandosi da sedi diversi e da luoghi diversi hanno l'opportunità di lavorare insieme in gruppo e di sviluppare la capacità di lavoro di team e di squadra che oggi è un requisito fondamentale per essere dei bravi progettisti.